All'operazione dei NAS ha collaborato anche il NOE di Catania. I militari hanno scoperto un traffico di macellazione clandestina e quina nel comune di Rosolini, in provincia di Siracusa. Sequestrate due aziende, diverse aree inquinate, una macelleria e di prodotti trovati per un valore di oltre un milione di euro. I proprietari sono stati denunciati. All'interno di una macelleria sono stati trovati i timbri falsi utilizzati per simulare i bolli sanitari, cioè i sigilli dei veterinari delle aziende sanitarie all'interno dei mattatoi utilizzati per attestare la salubrità degli animali macellati e l'idoneità, dunque, delle carni al consumo umano. I militari sono risaliti al luogo di macellazione degli equini individuando, nelle vicinanze, un'azienda agricola dove si trovava un mattatoio clandestino e al cui interno i militari hanno sorpreso un uomo intento a macellare un equino di provenienza sospetta in ambienti con attrezzature che si presentavano in pessime condizioni di igiene, privi della necessaria autorizzazione senza alcun controllo veterinario. In un'azienda confinante è scoperto infine un allevamento abusivo, costituito da 40 cavalli di origine sconosciute e sottratti ai controlli dell'autorità sanitaria, elevati i rischi per la salute dal momento che la carne, che poi sarebbe stata acquistata, era assolutamente priva di ogni controllo.